E Martin Wilmots, il classe 99 di cui vi avevamo parlato nella serata di ieri su 8pagine.it, che la SSD Calcio Avellino potrebbe inserire nella propria rosa. Come anticipato domenica scorsa sul canale 696, nel corso di 0825, il giovane belga, fratello di Reno, ex centrocampista dell'US Avellino, Oral Carpi, e figlio della gloria del calcio belga Mark Wilmots, aveva manifestato la propria disponibilità a tornare in Irpinia, essendo rimasto impressionato dal calcio italiano e soprattutto dal calore della piazza, pur avendo solo assaporato l'esperienza all'ombra del partenio, sfumata con l'estromissione della società di Taccone dalla Serie B, a supportarlo nel suo orientamento di valutare il sussistere dei margini per un'intesa, finalizzata a sposare di nuovo la causa velinese, anche se in Serie D, proprio la sua famiglia, che ha avuto modo di conoscere ed apprezzare la città e l'ambiente negli scorsi mesi, ed è convinta della solidità del progetto di De Cesare, a prescindere dalla categoria. E così, nei giorni scorsi, sono iniziati i contatti tra la nuova dirigenza velinese e l'entourage del calciatore, che sarebbe un under di lusso per la categoria, in grado di fare la differenza come jolly di centrocampo o come trequartista. Le parti si sono incontrate in mattinata a Napoli, e nelle prossime ore si conoscerà il colore della proverbiale fumata. Intanto, al Country Sport, è arrivato il rompetele rig anticipato da parte del tecnico Archimede Graziani. La ripresa è fissata per la giornata di martedì, quando sarà noto il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni sui ripescaggi e soprattutto sul format della Serie B. Conferma, a 19 squadre, o ripristino dell'organico a 22. La SSD resta alla finestra per un eventuale varco per la Serie C.